Per chi desidera acquistare pannelli fotovoltaici al miglior prezzo e della migliore qualità, First Beam SRL è la soluzione perfetta. L'azienda infatti si occupa di intermediazione, importazione e distribuzione in Europa di pannelli di celle al miglior rapporto qualità-prezzo, garantito da una rigorosa selezione fra i vari fornitori mondiali. Da sempre attenta alla protezione dell'ambiente, Advantix SPA vanta una gamma prodotti tra le più complete nel panorama europeo, che oggi si arricchisce di due novità, l'innovativa pompa di calore aria-acqua reversibile mini-killer inverter dagli elevati rendimenti e l'accumulo di nuova concezione SACS per la produzione di acqua calda sanitaria. La ricerca e sviluppo di General Membrane SPA, grazie alla collaborazione con Velcro Italia SRL, ha sviluppato e brevettato General Fix, un sistema d'aggancio capace di preservare l'integrità dell'impermeabilizzazione e rendere amovibile il fotovoltaico o altri impianti tecnologici, senza nessun tipo di foro passante o zavorre in copertura. Live Energies, partner dell'azienda leader del mercato fotovoltaico SunPower, cura tutti i dettagli necessari alla realizzazione di un impianto, dalla progettazione all'installazione, dalla gestione delle pratiche dell'impianto solare termico ad alta efficienza, fino alle certificazioni energetiche per abitazioni in ristrutturazione e di nuova costruzione. La società MyEnergy segue i propri clienti in tutte le fasi di progettazione di un impianto fotovoltaico, offrendo servizio, manutenzione, assistenza tecnica e burocratica completa a prezzi estremamente vantaggiosi. Per questo solo nel 2010 è realizzato impianti chiavi in mano in tutta Italia per un fatturato di ben 42 milioni di euro.